All'Asia 36 leggi approvate tra semplificazione e innovazione, conferenza stampa di fine anno sull'attività del Consiglio regionale. L'Aula approva Regina Margherita, azienda ospedaliera. Via libera al bilancio di previsione del Consiglio, approvata anche la nota di aggiornamento al DEFRA. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati, 36 leggi approvate, 10 in più rispetto al 2022 all'insegna della semplificazione e dell'innovazione. Illustrati i dati di un anno di attività del Consiglio regionale del Piemonte. 62 sedute svolte, di cui 4 aperte, per un totale di 225 ore. 36 leggi approvate, via libera inoltre a 100 atti di indirizzo e 48 deliberazioni. Depositati 7.233 emendamenti. Ne sono stati approvati in tutto 200. I gruppi hanno presentato 37 proposte di legge. 12 la Lega, 14 il Partito Democratico, 5 Fratelli d'Italia, 1 Forza Italia, 2 il Movimento 5 Stelle, 3 i moderati. Sono 21 i disegni di legge della Giunta. Le commissioni si sono riunite 350 volte, hanno licenziato 24 disegni di legge, 14 proposte di legge e 25 proposte di deliberazione. Questi i dati salienti dell'attività svolta nel 2023 dal Consiglio regionale del Piemonte, illustrati dal Presidente Stefano Allasia, nell'ambito della conferenza stampa di fine anno. Un bilancio assolutamente positivo. Abbiamo sviluppato più lavori rispetto al 2022. Un lavoro importante per i cittadini piemontesi. C'è la necessità di sburocratizzare, velocizzare i processi legislativi. Si è fatto la legge elettorale, si farà la riforma del sistema di regolamento interno, dando sempre un giusto equilibrio fra maggioranza e opposizione. Palazzo Lascaris ha ospitato dieci mostre, tra le altre quella dedicata a Erminio Macario e quella per i cent'anni dell'aeronautica militare, sottolinea il Vice Presidente Francesco Graia. Sono stati organizzati inoltre la prima giornata del Valore Alpino, la serata benefica per la Fondazione Ricerca sul Cancro e 26 eventi nell'ambito del Salone del Libro di Torino. Numerose anche le attività realizzate dal Comitato Resistenza e Costituzione, come ricordato dal Vice Presidente Daniele Valle. Quest'anno abbiamo promosso innanzitutto delle iniziative rivolte ai più giovani, più divertenti, più coinvolgenti, proprio per allargare un po' il pubblico di riferimento. Penso per esempio ai concerti che abbiamo organizzato e poi sempre rivolti ai più giovani i concorsi che ci hanno permesso di raggiungere molti ragazzi in più e soprattutto di coinvolgere anche scuole, in particolare istituti tecnici e professionali, che dal tema erano sempre un po' intimoriti e partecipavano meno. Il consigliere segretario Gianluca Gavazza si è soffermato sull'osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, che ha svolto un'attività di formazione rivolta a un alto numero di cittadini e studenti. Noi lavoriamo con le scuole perché è lì che dobbiamo iniziare, dobbiamo iniziare con i nostri ragazzi e educarli all'uso del danaro. Forte l'impegno anche della consulta femminile, ha ricordato ancora Gavazza, che ha confermato di saper affrontare le sfide emergenti anche in tema di maltrattamenti familiari o di coppia. Ivano Martinetti, consigliere segretario, è intervenuto sugli stati generali della prevenzione e del benessere e sulle attività dei sistemi informativi. Grande impegno su quello che è tutto l'aspetto dell'informatizzazione, sempre massima attenzione su quella che è la cyber security per i nostri dati, che sono i dati dei cittadini piemontesi importantissimi. Per quello che riguarda gli stati generali della prevenzione, del benessere e della salute, ancora una volta la prevenzione e la beneficenza sono stati il filo conduttore delle nostre iniziative. Il consigliere segretario Michele Mosca descrive l'attività di comunicazione. Da luglio è online il nuovo sito, nel corso del 2023 ha avuto 1.300.000 visualizzazioni, 90.000 sono stati follower della pagina di Facebook. Per quanto riguarda l'altro tema, quello della consulta Europa, due linee principali di intervento, uno legato alla formazione per gli enti locali e l'altra invece la formazione dedicata agli studenti. L'Aula ha dato il via libera maggioranza alla trasformazione della Regina Margherita in azienda ospedaliera. A maggioranza, il Consiglio regionale ha approvato la proposta di delibera per trasformare dal 1 gennaio 2024 l'ospedale infantile Regina Margherita in azienda ospedaliera. Illustrando il provvedimento, l'assessore alla sanità Luigi Icardi ha spiegato che l'azienda sanitaria Città della Salute di Torino, con i suoi 10.000 dipendenti e quattro ospedali, è la più grande d'Italia ed è estremamente difficile da gestire ed amministrare. Scorporiamo una parte per un motivo gestionale, un motivo economico e finanziario, ma anche per dare una migliore assistenza ai nostri bambini perché in questo modo, siccome i bambini non sono adulti piccoli ma hanno bisogno di attenzioni diverse, noi garantiamo un percorso e garantiamo un maggiore cura che già è molto alta per i bambini piemontesi. La maggioranza si è dichiarata fortemente convinta della bontà del provvedimento. C'è una grande eccellenza che si è formata nella Regina Margherita, questo potrà essere ulteriormente potenziato con questo percorso di autonomia organizzativa aziendale e per trasformarla appunto in un polo di estrema attrazione anche per portare i pazienti da fuori regione. Nel corso del dibattito l'opposizione ha espresso molte perplessità. Non è chiaro il percorso di scorporo della Regina Margherita dal punto di vista dei costi e anche del percorso sanitario. C'è molta confusione, poca chiarezza e diciamo che si avvia un percorso oggi senza alcuna certezza del futuro. Approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale. All'unanimità dei votanti, due consiglieri non hanno votato, l'Aula ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 del Consiglio regionale. Come ha spiegato il Presidente Stefano Allasia, il documento si presenta complessivamente analogo nell'architettura a quello relativo agli esercizi 2023-2025. Per il 2024 il trasferimento è intorno ai 56 milioni di euro, con maggiori spese correnti per circa 2,7 milioni e in conto capitale per circa 1,5 milioni. Le spese iscritte nel triennio 2024-2026 riguardano in gran parte i servizi istituzionali, generali e di gestione. Per il 2024 il funzionamento ordinario del Consiglio regionale costa quasi 51 milioni. Le spese per investimenti edili sugli immobili di proprietà ammontano a 1,5 milioni. Come negli anni passati, ha concluso all'Asia, gli stanziamenti sono stati ottenuti mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione. Con 26 voti favorevoli, 12 contrari e 3 non partecipanti al voto, l'Assemblea di Palazzo Lascaris ha dato il via libera anche alla nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza regionale 2024-2026, un documento tecnico presentato dall'esecutivo che aggiorna il quadro macroeconomico e quello finanziario pluriennale delle risorse europee per le politiche di sviluppo. Sport e disabilità, 400 mila euro per l'acquisto di protesi. L'annuncio è stato dato dall'assessore alla sanità nell'ambito dei question time. In arrivo 400 mila euro da destinare a protesi per la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità, lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi nell'ambito dei question time in risposta a Silvio Magliano, moderati. Tra poche settimane ha annunciato Icardi il bando per l'erogazione dei contributi per l'acquisto di protesi a tecnologia avanzata per la pratica sportiva da parte delle persone con disabilità motoria, potrà essere pubblicato. Il tetto di spesa individuato per la regione Piemonte ammonta 395 mila euro. Saranno presto definite le corrette procedure per consentire ai beneficiari l'accesso alla preventiva visita medico-sportiva. Una festa affollatissima di grandi e piccini a Palazzo Turnò in Piazza Solferino e un concerto al Conservatorio Giuseppe Verdi. Il Consiglio regionale ha voluto incontrare i piemontesi per augurare Buon Natale. Sono stati oltre mille i partecipanti a Natale con noi, l'evento organizzato dal Consiglio regionale in vista delle prossime festività. Un buon successo di pubblico, ha commentato il Presidente dell'Assemblea regionale Stefano Allasia. Anche se quest'anno Palazzo Lascaris non era utilizzabile poiché in fase di ristrutturazione. Il cortile e l'atrio della palazzina Turnon hanno comunque sopperito egregiamente. Stiamo festeggiando con centinaia di cittadini che sono venuti a trovarci per cercare di condividere dei momenti conviviali. Molto apprezzate tutte le attrazioni da Babbo Natale al Mago, dai giochi per i bimbi sino alle tante golosità offerte gratuitamente dalle aziende piemontesi che hanno partecipato all'evento. Ci sono parecchi spazi per i bambini perché va ricordato che Natale è per i grandi ma è soprattutto per i piccini. Abbiamo aperto le porte nell'ottica di rendere il Consiglio sempre più trasparente e vicino ai cittadini per scambiarci gli auguri con tutti i torinesi, con tutti i piemontesi. Da Palazzo Turnon al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, affollato per un'altra iniziativa organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte, il Varietà di Natale con la regia di Giulio Graglia, a cura di Lingua Doc e del Centro Studi Piemontesi e presentato dalla giornalista e autrice Sabrina Gonzatto. Dopo il saluto e gli auguri del presidente Stefano all'Asia, che ha ribadito come l'appuntamento al Conservatorio sia ormai consolidato come un evento imperdibile durante le festività natalizie, sono stati diversi i personaggi che si sono alternati sul palco con canti, melodie e poesie. Gli attori Mario Brusa e Rosalba Bongiovanni, la cantante Marta Viola, i drum theater, la corale ensemble Il Rifugio, il Sunshine Gospel Choir. La seconda parte della serata è stata incentrata sulla figura di Gipo Farassino con Marcello Spinetta e Mario Congiu, che con chitarra e voce hanno ripercorso musiche e parole dell'artista scomparso dieci anni fa, che ha lasciato un'impronta indelebile nel patrimonio culturale piemontese. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale, i cui lavori riprenderanno a gennaio. arrivederci e buone feste a tutti voi!